Non si è ancora spento il successo del brano Il Guesiero che Marco Vengoni ha voluto lanciare un altro singolo, Essere Umani, tratto dall'album Parole in Circolo, uscito il 13 gennaio scorso. Essere Umani è una delle tracce a cui Marco è più legato perché rappresenta un messaggio di speranza nel futuro e nel genere umano. Lui stesso in un'intervista ha dichiarato Essere Umani è uno dei brani più significativi del nuovo album, che mostra attraverso una scrittura cantautorale, inedita la sensibilità di un uomo adulto, consapevole a cui non basta mostrarsi invincibile, collezionare trofei, ma che, forte dei propri limiti e di una forte conoscenza di se stesso, è felice di essere riuscito ad amare le proprie fragilità. Ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Il testo è contemporaneo al momento che vive la nostra società. È il racconto di una storia d'amore universale, la convinzione nel ribatire di non fermarsi all'apparenza, di tendere la mano per combattere insieme i lati oscuri di una società sempre più nascosta, dietro uno schermo, e poco protesa verso il prossimo, che pian piano tende a dimenticare la verità dei rapporti e l'importanza di essere animali razionali, uguale essere umani. Un brano intenso che rappresenta la parte più suonata dell'intero album, privo di arricchimenti elettronici e che mostra un uomo che è imparato dalla vita, che ha vinto, vince e sempre vincerà, e che apprezza l'essere umano nella sua interezza con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Insomma, credo degli umani che hanno il coraggio di essere umani. Questo brano rappresenta quindi in sostanza la fiducia nel prossimo e nell'umanità, in un contesto storico che sembra invece aver perduto ogni riferimento e che non vuole fare i conti con la propria coscienza, degenerando così nel cinismo e nell'egoismo più sfrenati.